Il rapporto dimostra che l'aumento dell'opportunità terapeutica a favore dei pallati rari è collegato ad un aumento di costi assolutamente commisurato e limitato. Questo ci dimostra che stiamo lavorando nella direzione giusta. Quello che emerge però sono due macro richieste che noi possiamo fare al mondo istituzionale, forse tre. La prima è di mantenere alto questa attenzione verso il mondo delle malattie rare e soprattutto di mantenere alto gli incentivi e le tutele per chi investe nel farmaci orfani. La seconda collegata alla prima è quella di favorire un accesso più veloce dei farmaci orfani ai pazienti. La legge del decreto Balduzzi sui 100 giorni non viene rispettato, quattro mesi e mezzo sono i tempi di approvazione. L'inserimento diretto dei farmaci orfani all'interno dei prontuari regionali dopo l'approvazione AIFA consentirebbe di superare queste difficoltà e offrire immediatamente un'opportunità terapeutica ai pazienti. La seconda richiesta che facciamo è quella di rivedere quella che è la normativa sul payback che è stata approvata nella legge di bilancio 2018 che ha escluso 39 farmaci dalle tutele sul payback. Sono i 39 farmaci più piccoli e più deboli e quindi deve essere assolutamente reintrodotta la tutela anche per loro.